Presidente Bufi, ha parlato alla politica, la replica anche a voi, è stato soddisfatto da quello che hanno detto? Perché poi in realtà qui sembra che siamo tutti d'accordo, però poi che facciamo? Io non vorrei che tra qualche anno ancora mi trovassi a moderare un nuovo dibattito dove stiamo aspettando ancora delle risposte o che si passi poi dalla teoria alla pratica. Per essere molto pragmatico questo rischio c'è, quindi intanto magari se si prepara ci troveremo fra qualche tempo. No, spero di no. Piuttosto mi sembra che dai rappresentanti della politica che hanno avuto la sensibilità di partecipare oggi qui a questo nostro comune convegno e devo dire sensibilità, almeno per chi vi parla molto apprezzata, sono arrivati degli impegni, impegni, mi par di capire, neppure formali, impegni sostanziali. Diceva il senatore Gibino poco fa, ma voi siete delle persone per bene, grazie sicuramente sì, ma... Possono rispondere? Sì? Sì, va bene. Eccomi, pronto. Un saluto a tutti, c'è il senatore Gibino?